Garanzie per il futuro produttivo del pastificio Antonio Amato di Salerno le hanno richieste i lavoratori ottenendo risposte positive dalla curatella fallimentale, le hanno ribadite i vertici dell'amministrazione provinciale che per questo motivo hanno coinvolto nella vertenza della storica azienda del capoluogo anche il Ministero delle Attività Produttive. Oggi pomediggio il tavolo convocato a Palazzo Sant'Agostino con la partecipazione del responsabile di visione aziende in crisi del Ministero Gian Pietro Castano, assente invece la curatella fallimentare che avrebbe deciso di non partecipare al confronto promosso dall'assessore provinciale alle politiche del lavoro ferrazzano. Questo perché dal tribunale fallimentare sarebbe stato ritenuto inopportuno in un momento delicato della procedura con un bando di vendita già emesso in scadenza il 7 novembre che tra l'altro già prevede l'impegno per il futuro compratore di garantire i livelli occupazionali. In altri casi molto simili i curatori sono presentati per cui io rispetto la scelta del curatore. Ma quello che vogliamo dire oggi è che al di là del ruolo che ha giustamente la curatela e che ha il tribunale in questa vicenda il Ministero del Sviluppo Economico insieme alle istituzioni locali intende dare un proprio sostegno, un proprio contributo alla soluzione positiva di questa vicenda. Noi abbiamo subito anche nel settore agroalimentare al sud molte situazioni di crisi non risolte o risolte male e vorremmo evitare che questo come dite voi storico pastificio abbia una fine ingloriosa. Noi riteniamo ci siano tutte le condizioni perché abbia un futuro positivo. Il contributo che possiamo dare è a fronte dell'impegno che il nuovo imprenditore che deciderà di continuare l'attività vuole assumere. Se il nuovo imprenditore farà degli investimenti che noi possiamo sostenere lo faremo molto volentieri. Grazie a tutti.